8 secondi da giocare, più 1 per Napoli, incredibile, palpitante finale, secondo libero per Greer, 8 secondi, il tiro libero di Greer, è sbagliato ancora in ribasso per Thompson, alla palla del sudestino Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Thompson per Vettra, la penetrazione, 3 secondi, Vettra, segna, segna, lo vedetevi, segna Vettra, più 1, lo vedetevi, tira, Ragnuolo di Feria 1, Feria 1, Feria 1, Feria 1, fantastico finale, scusa Vettra, forzesca vittoria, Feria 1. Mille emozioni a Napoli, poi al rientro a Fabriano, per questo grande successo della formazione bianca-azzurra, banca Marche di Nino, che ritorna nella 1 di basket, più di 500 tifosi a Napoli a trepidare e soffrire, più di mille, poi in piazza, ad aspettare il rientro della squadra a notte fonda. Il presidente Biondu, lo sponsor Nino e tutti gli eroi della stagione bianca-azzurra portati in trionfo in una nottata che sarà difficile dimenticare. Un elogio particolare lo merita il coach Lasi, le cui prime parole sono state di ringraziamento al Signore, capace di ritornare alla guida della squadra dopo l'esonero e di trovare le motivazioni giuste per centrare questo ambizioso traguardo.